Veniamo un po' all'agroalimentare e al tuo libro. Allora, tu come docente e come analista hai scritto questo libro, che hai pubblicato e presentato nei giorni scorsi a Roma, a lungo tevere anche con Matteo Salvini. È stato un grande successo e questo libro parla di imprenditori, insomma, di imprese agricole, come fare un'impresa agricola, come metterla su, ma soprattutto mi è parso di capire come mantenerla e come diventare e rimanere imprenditori 4.0. Che significa? Significa che l'agricoltore adesso non è più solo quello che zappa la terra, che è a contatto con il terreno e produce e basta. Gli agricoltori in questo momento devono essere proiettati al mercato, sapere come vendere i prodotti, come venderli, come generare un'azione di marketing per essere sul mercato e soprattutto per rimanerci sul mercato, perché la concorrenza è davvero schiacciante, soprattutto la grande distribuzione, e quindi noi abbiamo dei prodotti di qualità. Il Made in Italy è riconosciuto nel mondo. Si può attivare un'azione di internazionalizzazione, piuttosto che un'azione interna di vendita sul prodotto che mette a disposizione di tanti italiani dei prodotti di altissima qualità. Però nessuno lo sa. Quindi il tema è come aprire un'azienda agricola e capire se il progetto di investimento che voglio fare possa essere redditizio nel futuro, perché tanti hanno volontà, voglia di attivarsi in questo settore. Ci sono anche tantissime opportunità, soprattutto con il PNRR, ma non solo. I PSR regionali, piuttosto che i bandi fatti da Ismea, ci sono davvero miliardi di euro a disposizione di questo settore strategico. Però nessuno, spesso pochi, aggrediscono questi fondi, sempre gli stessi magari, e tanti ritornano indietro in Europa e vanno a finire negli altri paesi europei. Quindi noi dobbiamo generare un'azione di formazione totale sul territorio nazionale per coloro che hanno questa voglia, che hanno un'idea di business. Voglio vendere un prodotto particolare, ma come devo fare? Ecco, il mio libro serve ad aiutare tutti coloro che hanno questa voglia, volontà, passione, ma non hanno gli strumenti adeguati per farlo. Al termine del libro io propongo, è allegato alla guida chiaramente, dalla guida pratica, un business plan agricolo. Un business plan è un documento strutturato che ti permette di capire se tra cinque anni con la mia azienda sarò in piedi e se questa azienda avrà fatto utile e sarà cresciuta, in che modo. Quindi il business plan agricolo costruisce tutto questo. È un'idea che chiaramente ha avuto un grandissimo successo, non lo dico perché è un mio libro, ma perché non esiste null'altro di simile sul panorama editoriale e neanche sul panorama informatico per quanto riguarda il software della costruzione del business plan e quindi sta avendo un grande successo. La Maggioli Editore ha sposato questo progetto, l'abbiamo presentato a lungo il Tevere anche con la presenza del sottosegretario Gianmarco Cisnero. Centinaia ho visto, vero sì. Con uno strepitoso e importante successo perché è uscito a settembre 2020, non c'è mai stato modo di poter fare una presentazione ufficiale e quindi l'abbiamo fatto.